In attesa del primo Consiglio Comunale che consentirà alla nuova maggioranza sostegno di Maglio Torquato di palesarsi, il Sindaco di Nocere Inferiore giudica positivamente il primo periodo di collaborazione con il Partito Democratico. Un rapporto nato dopo un lungo confronto, ma che appare già incanalato in una direzione costruttiva. Ci sono tutte le condizioni per cui il rapporto di collaborazione amministrativa che ormai si è strutturato in maniera organica con la maggioranza civica moderata e anche democratica, nonché la presenza dell'area riformista, è un rapporto consolidato. C'è un'ottima collaborazione con l'assessore Scarfog, una persona operativa attiva e che sta ovviamente avviandosi a gestire tutti i problemi di carattere ambientale che noi abbiamo notoriamente affrontato nel corso di questi tre anni e mezzo e che adesso devono trovare anche uno sbocco di soluzioni. Credo lo abbiano trovato, Nocere è una città obiettivamente pulita. Credo che il rapporto politico debba e possa avere tranquillamente uno sbocco positivo. Ovviamente quello che c'era da chiarire da parte dell'amministrazione è stato chiarito nel rapporto con i componenti del Partito Democratico. Adesso il Partito Democratico al proprio interno farà la chiarezza necessaria. Il Consiglio Comunale prossimo sarà anche un banco di prova, il Consiglio Verità, per poi guardare anche al gruppo, la collocazione del gruppo o una parte del gruppo? Lo ripeto, questo è un problema che riguarda l'interno del Partito Democratico. Finché ci sono alcune componenti che sono ad oggi palesemente dissenzienti, io non posso che prenderne atto, come ho detto ripetutamente, ho preso atto di quelle che sono state le loro dichiarazioni e reputo l'area che collabora con l'amministrazione una parte, seppure maggioritaria, del Partito Democratico stesso. Però sono vicende nelle quali il Sindaco in quanto tale non entra e non deve entrare. Fermo restando che reputo parte della maggioranza chi collabora con l'amministrazione, non chi si dichiara contrario all'amministrazione.